chicco accendete il videoregistratore power tasto lì questo e fai vedere quello che premi ma lo devi dirigere di là questo è vecchio aspetta si vede aspetta famiglia ma è teso vecchio un po scaricate le batterie allora tieni questo allora inserisce la cassetta va inserisci la cassetta vai spingi piano piano ad agio piano vai vai benissimo ok già andato in riproduzione eccolo allora alza il volume che è questo qui alza la livella del volume spostate da davanti però spostati poi togliamo il tracking anzi mettiamo il tracking telecomando pausa ma ora è che il suo vecchio funziona ma io li andava fermo eh fermo fermo ciccio lei vada da davanti non funziona l'antena lei vada da davanti non funziona l'antena direi